Presidente Smargiassi, appena conclusa la Commissione Vigilanza con tante audizioni, si è iniziati con un punto legato ai lavoratori della manutenzione dell'ASL di L'Aquila. L'ultima seduta della Commissione Vigilanza del 2019 abbiamo provato a mettere gli ultimi argomenti che erano rimasti in sospeso. Questo è sicuramente un argomento importante che non riguarda solo l'ASL 1 ma riguarda più o meno tutte le ASL, sono gli affidamenti dati all'esterno a ditte esterne per le manutenzioni. Emergono come sempre tutta una serie di contraddizioni a partire dal trattamento economico di questi addetti, al fatto che spesso i trasferimenti in denaro da parte dell'ASL che avvengono puntualmente, così ci è stato detto, alle imprese, non sempre le imprese reggirono in maniera puntuale agli operatori. Questo crea una serie di problemi alle persone che sono costrette a vivere, a volte aspettando uno stipendio non sempre puntuale. Si cercherà attraverso, almeno così ci ha detto il nuovo direttore generale dell'ASL 1, il dottor Testa, di provare a trovare una soluzione anche in virtù di contratti a tempi un po' più lunghi perché sei mesi capite bene che un addetto, un operaio scopre a malapena come funziona quell'ospedale. Sì e poi il tema dell'agricoltura con i danni da grandirata e poi un'audizione anche dell'assessore imprudente. Sì, due temi. Uno che ci trascinavamo da un po', quello della famosa lettera che l'assessorato ha inviato ai presidenti e ai commissari dei consorsi di bonifica. Era rimasta la parte politica da chiarire, ovviamente lì non troveremo mai l'accordo, non siamo d'accordo su una nota che a parere nostro ha imposto ai commissari e ai presidenti di revocare le elezioni in virtù di una legge che era lì per essere approvata. Noi riteniamo che quello non sia stato un invito, ma una vera e propria imposizione che ha scavalcato il diritto democratico dei soci di votarsi un proprio CDA. È andata bene perché la legge è stata approvata in tempi molto stretti. Ci chiediamo se non fosse andata così e avessimo scavalcato il 2019. Era corretto nei confronti dei consorsiati non potersi votare, non potersi scegliere i propri amministratori? A parere nostro no, ma è chiaro che questo è uno scontro, è un confronto politico che non ci potrà mai trovare d'accordo. Per quanto riguarda il secondo punto, danni da grandirata, noi siamo contenti perché finalmente con le audizioni che abbiamo sentito oggi siamo riusciti a capire le ragioni e il perché la provincia di Chieti non è stata coperta da danni. Il tema qual è? Tutte le colture che sono assicurabili non possono essere risarcite, a prescindere da se uno ha o meno l'assicurazione. In più, la grandirata è stata particolarmente rada, se è vero che è di dimensioni molto grandi, ma tra un chicco e l'altro c'era molto spazio. Quindi l'agricoltura ha avuto sicuramente meno danni rispetto alle proprietà private. Le auto distrutte, le case distrutte, in agricoltura questo non è avvenuto, il danno è inferiore al 30%. Abbiamo invitato l'assessore a dare questi chiarimenti tecnici, che non vengono riportati purtroppo in delibera, ai cittadini perché rimane il malumore su quel territorio che ha visto perdere in taluni casi quasi tutto il raccolto e non verranno risarciti. Ultima domanda, la Commissione Vigilanza, l'ha detto già lei, è all'ultima, oggi ha fatto l'ultima riunione, poco meno di un anno perché la legislatura è iniziata a marzo-aprile. Qual è il giudizio sui lavori e qual è la prospettiva per il 2020? Allora, noi come io personalmente, con il mio staff, come prima cosa, come primo obiettivo da raggiungere abbiamo pensato di cambiare un po' quello che avveniva in passato, ma senza nessuna critica per il passato, ma perché volevamo dare un altro tipo di indirizzo. Quello di coinvolgere tutti i commissari. Abbiamo dimostrato nel corso di questi mesi, come abbiamo inserito in ordine del giorno, punti sia della maggioranza che dell'opposizione. Ovviamente c'è sempre almeno un punto del Presidente della Commissione. Abbiamo provato a toccare tutti i temi di tutti i campi, non puntando esclusivamente su temi legati al bilancio e all'economia di questa Regione, ma cercando di interessare gli assessori o le strutture tecniche su temi che a volte rimangono senza chiarimento. Abbiamo appena fatto l'esempio di uno di quei temi, di una delibera, che non ha nulla di losco nascosto dietro, semplicemente andava spiegato il perché non venivano risarciti i contadini. Continueremo su quella strada, cercando di coinvolgere tutti, coinvolgendo il più possibile con la loro presenza gli assessori, per dare non solo un fine investigativo a questa Commissione, ma un fine informativo ai cittadini, utilizzarla per informare quanto più possibile i cittadini di quello che avviene in Consiglio regionale.